Una donna è rimasta ferita in un tamponamento tra due auto avvenuto ieri sera intorno alle 21 alle fiorine di Clusone, lungo la provinciale della Valle Seriana, nei pressi del ristorante Pineta. Entrambi i veicoli viaggiavano in direzione Bergamo. La signora rimasta ferita, che abita ad Albino, era alla guida di una Volkswagen Lupo, che è stata tamponata violentemente da una Renault Megane condotta da una ragazza straniera. Per estrarre la conducente dall'abitacolo della Lupo sono intervenuti i vigili del fuoco di Clusone. La donna è stata poi trasportata per le cure del caso all'ospedale di Piario. Grazie.